euronics la via latte apre anche a reggio calabria in pieno centro città all'incrocio tra via itria il viale calabria ad accoglierti troverai un ampio showroom disposto su due piani con una vastissima esposizione di prodotti di alta tecnologia oltre al personale altamente qualificato e pronto a soddisfare ogni tua esigenza nuove euronics sul viale calabria a reggio euronics la via lattea un mondo più avanti